Bene, quando si è in un posto, il pubblico cominciamo. Quello che è importante sottolineare, perché ha avuto la fortuna di nascere a Roma, è un flusso di due correnti, perché se è nata Roma la fortuna, in qualche maniera, nonostante le orde barbariche che hanno invaso Roma e hanno distrutto le antiche radici, in qualche maniera, e ha reso mieto il simbolo dell'ascia abitente, quindi del fascio dittorio, nonostante questo, è una fortuna nascere a Roma. E si percepiscono due correnti importanti, quell'atmosfera particolare, magica, che permea Roma, e una corrente segretata, qua dice Divino Segreto, intendendo la secrezione, alludendo alla secrezione qualcosa che viene segreto, poi leghiando l'indopine, in qualche maniera, quindi di una vita sotterranea, di un'energia e di un'energia che è sempre presente a Roma, l'altra corrente, soprattutto, parlo per me, che sono nato vicino a San Pietro, e abito dire, quella corrente cuba e oscura, e quasi diraneggiante, quella del Vaticano. Quindi ci sono due forze contraposte, che in qualche maniera l'individuo deve vivere, e cioè quella più magica e segretata, e quella più pesante e cuba al senso mortifero, che è quella che la religione cattolica ci ha trasferito. Anche la religione cattolica ha il suo fascino, ma perché ha preso questo fascino a prestito dal paganismo, è una copia, in qualche maniera, trasformata e in qualche modo nascosta, celata, di quello che era l'antica religione dei padri. Quindi c'è un soppertimento di un qualcosa che oggi non ci appartiene, ma ci apparteneva il tempo. Ma basta immaginare che la Roma ha subito, la Roma esoterica, io dico, arriva fino alla fine degli anni Ottanta, perché dopo c'è una trasformazione anche urbanistica che ne svilisce, ne altera l'immagine, il volto più nascosto. Fino agli anni Settanta, girando per i vicoli, c'erano e si osservavano, si osservava un tipo di paesaggio urbanistico particolare che con il tempo è stato trasformato, soprattutto come abbiamo detto all'inizio, per questa invasione barbarica che ha distrutto in qualche maniera le radici più profonde. questa era solo una premessa per arrivare al discorso, non ci teniamo conto, essendo legata le radici, parliamo di Roma e non certo, senza entrare in polemica, tutte quelle innovazioni che non condivido appunto legate a questa invasione. Naturalmente, è una cosa interessante, noi abbiamo tracce di questo passato. Ancora oggi si cerca, si sottolinea come Roma era la Roma antica, parlo, Roma inferiore, era in qualche maniera efficiente, si parla dell'architettura, ma nessuno parla del fatto che Roma è tutta basata sulla magia. ora vedremo, tutta basata su un concetto magico profondo, il romano non faceva nulla che non fosse legato a un rituale, pensiamo ai libri seguitini che venivano a consultare, non si faceva nulla se non c'era dietro un concetto rituale o magico. Pensiamo ad esempio andando verso Piazza Venezia, andando verso il Campidoglio, troviamo un tempo in lì, esisteva dove adesso c'è il Campidoglio, esisteva l'Auraglum, che era il recinto sacro di Gidei, dove gli Auri, sacerdoti romani, che utilizzavano questo bastone senza nodi, chiamato Lico, dividevano il cielo in quattro settori, evocando gli dei consente, ed erano loro che vaticinavano attraverso i fulmini, i voli degli uccelli, addirittura attraverso la forma delle uvi, vaticinavano e quindi traevano auspici per l'impero. Non solo, ci sono delle similitudini tra quindi gli Auri e l'arte, ed uschi, che sono un'altra specie particolare di sacerdoti, quindi non sono gli ucumoni, ma è l'arte, erano i sacerdoti fulguratori, erano legati e collegati alla genialità romana, ne parlo in politica romana numero 7, ho scritto un articolo su X, non ricordo adesso, ne parlo numero 12, si parlo appunto di questi fulguratori truschi, il un complicato rituale è stato rinvenuto, uno dei complicati rituali a Pulci, dove è stato trovato questo cappello magico che veniva utilizzato per entrare in contatto con delle forze trascendenti e magiche. In effetti la cosa può fare sordidere, invece è molto molto seria, perché avevano raggiunto, come dei litigabilici, una profondità tecnica, sagrale, che oggi noi abbiamo assolutamente perduta e difficilmente può essere ricostruita. Quindi l'arte, questi sacerdoti fulguratori non erano solo legati ai libri fulgulares, cioè legati ai fulmini, allo studio dei fulmini, ma erano legati a un viaggio extranormale e trascendente per mezzo di questo complicato, erano sacerdoti, ripeto, distaccati dai comuni che venivano scelti in maniera molto rigorosa e avevano delle capacità fuori dal normale. e quindi avevano qualche cosa, si legavano gli auguri, ma in un modo diverso, perché l'aure traeva solo auspici, mentre l'arte faceva con più un viaggio nelle zone astrali astralizzate, andando in un'altra dimensionalità. Ma poi ci sono tante tracce di quello che a Roma è stata anche l'influenza egizia. Ci sono tante tracce. Ad esempio, dove oggi sorge la chiesa di Santo Stefano del Cacco. Questo nome anche fa sorridere, ma Cacco era una organizzazione di Macarlo, di questa scimmia che si trovava all'interno del Tempio Esiaco e era stato costruito, era il più grande tempio visile, il meno visile costruito, edificato a Roma. Tant'è che ancora oggi, e adesso poi approfondiremo, ancora oggi i suoi vestiti sono visibili sparsi per Roma. questo Tempio è costruito da Antonio Lepito e Ottaviano, l'anno 22-23, nel 40-43, scusate, avanti Cristo. Gli obblischi sono sparsi, uno è a Piazza Mauna, uno vicino al Panteo, uno è nel Giardino di Boccoli a Firenze, sono sparsi per tutto. aveva questo viave di accesso gigantesco, c'erano dei leoni, che si trovavano nel Tempio e che oggi ritroviamo ai lati del Campinoio, un tempo raccusato come Fontanella, vicino a Castole e Polluce. E erano i due leoni invece che erano all'interno del Tempio di Isile, c'era una statua colossale, i resti di questa statua colossale li rinveniamo a Piazza Venezia, a Piazza Venezia dove c'è questo, vicino al capolinea degli autobus, a Piazzetta San Marcos, rinveniamo a un busto chiamato per secolo di Madonna di Grecia, che fu usato, come era stata usata, la statua di Pasquino per lasciare messaggi in realtà, il busto colossale della statua di Isile, che si trova vicino al piccolo del piede, così chiamato perché rinveniamo un piede gigantesco, ancora oggi vi voglio andare a vedere, lo può trovare, è vicino al piccolo della pigna, anche questa era all'interno del Tempio Isiaco. e anche l'Uberisco ha una sua funzione ben precisa, non arbitraria, perché l'Uberisco raccoglie i raggi solari, rappresenta il fallo fecondante che prendendo i raggi solari li porta all'interno del Tempio, che rappresenta l'utero primigenio che va fecondato, quindi una fecondazione adulta che poi avremo modo di approfondire con il discorso del genio di Roma. Genio Urbis, Genio Defensor, quindi ha un'apparenza fecondante, è il fuoco che feconda, quindi è la più magia che feconda, è l'atto creativo che si manifesta, è l'atto creativo e magico che viene alla luce. Quindi abbiamo detto e spiegato che questo Tempio meraviglioso fu poi distrutto, oggi qui si trova la chiesa appunto di Santo Stefano del Capo. Entrando dentro, quando è possibile, perché è molto difficile che si riesca a entrare, troviamo le colonne originali del Tempio Iside, meravigliose, di albastro nero, e probabilmente, forse per chi è particolarmente sensibile, si provano delle sensazioni indigativi nel toccare queste colonne. È un viaggio indietro nel Tempio, un viaggio nel Tempio che ti riporta ai fasti della Roma imperiale e del punto di sievo, che è addiscusissimo, veramente affascinante questo viaggio che porta indietro nel Tempio. Parlavamo dell'antica religione del Turbio, che era legata al genio. Il genio, o genios come si vuol dire, investiva un'importanza fondamentale nell'ambito della religione magica sotto l'igno romano. Il genios era parte integrante dell'essere umano, oltre al genio legato alla Fondazione Roma di cui parleremo. Il genio personale di ciascun individuo veniva festeggiato il giorno del compleanno. frontem e genio. Praticamente si toccava la fronte, colui che è il compleanno, sottolineando come in genio non avesse elementi e sovrapposizioni di tipo sessuale, ma di tipo puramente mentale, creativo, quindi una genesi occulta, fronte al genio, veniva toccata la fronte. Prima ha detto il nostro amico che parlava fino a noi, parlava dell'aiuno. L'aiuno era l'aspetto femminile del genio e veniva rappresentato all'interno della casa, all'interno dell'abitazione, sia l'aiuno che il genio si venivano rappresentati come due sorventi che si intersecavano tra di loro, quindi erano unificati. Non ci dimentichiamo che dal mio brisco, così vuole la leggenda, vede apparire un fallo infiammato, infuocato nel focolare, così racconta suo figlio serbio, e quindi ne riconosce in quella apparizione, l'apparizione del genio. Quindi il genio fa parte della struttura mentale e, abbiamo detto, non ha connotazioni prettamente sessuali, ma connotazioni mentali. Perché era la sede della concezione cogitativa, quindi creativa, quindi svincolata da un aspetto sessuale. Ma è vero che tra l'altro i geni, come il gorda sempre dal mio brisco e anche suo figlio serbio, era in qualche modo agente nella nascita del figlio, ma non sotto l'aspetto sessuale, ma sotto l'aspetto animico. Quindi praticamente che cosa faceva? Veniva scelto un giorno particolare in cui il genio si manifestava e determinava le qualità del nascituro, sia l'aspetto maschile o femminile, sia le peculiarità animiche del soggetto. Quindi on'era era un atto magico a tutti gli effetti. Del resto c'era, ad esempio, nella dignitas matrimoni, c'era tutto il rituale legato al genio di Abigo, in cui la flamina di Alice, la minica di Alice, scusate, la moglie, prima di accoppiarsi con il consorte, doveva praticamente accoppiarsi con il simbolo intifabbico del Dio. Quindi veniva penetrata prima di questo fallo legato alla divinità, cioè un fallo fatto di pietra, praticamente un divino. Quindi il genio è sempre presente nella vita del romano. E che cos'è il genio se non il corpo unare che ritroviamo nel medismo matrimonico, il corpo unare, il corpo unitesimo, doppia strada? Esattamente questo è quello che Kramer si chiama l'uomo storico, forza geniale, e che è presente in tutta la cultura romana. Chiaramente questo genio aveva due aspetti. A Roma lo chiamavano il grande daimon, adesso poi vedremo. Aveva due aspetti, uno tendente al bene e uno tendente al male. Quindi la parte luminosa dell'essere umano è la parte più scura. Secondo Lucio Apuregni era immortale. Secondo altri invece si disfaceva e diventava un'ombra e lentamente si dissolveva. In effetti ci sono teorie di tipo ermetico, magico, sul fatto che la parte più pesante del corpo lunare permane per un certo periodo dopo la morte nel tempo e poi va dissolvendo. Se una qual è la realtà esatta non lo sappiamo. Io da quello che ho studiato, a livello mio finanziario, personale, è che una parte del genio permane, rimane, si traduta energeticamente e quindi come Lucio Apuregni io presumo che sia immortale. Prima già hanno parlato di Janus, quindi di Janus, l'apritore delle porte, il cui simbolo era una chiave, è il bastone del penegrino che rappresentava il corso del sole. Rappresenta il Dio occulto e quello manifesto, quindi il Dio dei popoli, il Dio occulto, genio, anche in questo caso, ritorna l'aspetto geniale del Dio nascosto, del Dio nero, inteso in ogni senso oscuro e negativo, ma cioè celato, cioè occultato, che viene e deve essere risvegliato e che è in sintonia in qualche modo sempre con l'individuo storico occultato del creme. Quindi, tra l'altro, Janus è legato alle volte solstiziali e anche al futuro e al passato. Questi due aspetti del volto di Janus sono legati proprio a questa concezione che guarda al futuro e guarda al passato. Il genio Surbis è il mistero della fondazione e della fondazione occulta, perché tale è... Come ho detto, ho parlato in politica romana di Josef, il titolo dell'articolo era che era il sole dietro al Sipari e il volto allo del genio Defenso. Questo genio fondatore di Roma che viene chiamato anche Genius Iovis lo potete vedere in una rappresentazione unica che sia il Mastro Roma. andando nel tabularium che era chiuso nei sei capitolini e capitolini. Nel tabularium erano conservati anche i libri Sipilini famosi e anche questa statua, questo genio fondatore di Roma è chiamato Veglioli, è un genio... o Vegliore, è un genio etonio che non ha la testa. Ancora adesso è possibile ammirarlo. io l'ho visto qualche anno fa e è veramente affascinante, emana un'energia particolare per chi sa andare oltre e percepire in modo sensibile questo aspetto. Il nome, chiaramente Vegliore, è un nome che non svela il nome segreto del genio dell'urbe, della secondezza occulta perché il nome del genio ancora oggi o quindi il nome segreto di Roma se vogliamo questo è il nome segreto di Roma in realtà era il nome del genio e l'urbe tutelare dell'impero. È ancora oggi segreto. Soltanto il sacerdote lo conosceva e nel giorno della fondazione che lui era la fondazione di Roma veniva pronunciato attraverso un particolare rituale volto e svegliato. Qui si entra in discorso dell'Egrego e magico il piano è nutrito da una forza una forza diciamo che potremmo definire catena magica ma che nel contesto romano era nutrito da un solo individuo e onorato sotto un aspetto pubblico e celato ai romani veniva adorato veniva in qualche maniera nutrito il grego in una forma pensiero come sappiato veniva nutrito in questa maniera inconsapevolmente dal cittadino semplice mentre il sacerdote è con lui che in sostanza guidava il rituale. Noi questi geni poi li troviamo sotto una veste più nascosta e simbolica nelle mie una notte quando si parla dei 72 geni o temoni di salone o dei geni scusate che si trovano nell'opre magico nell'opre stregato sono tutti riferimenti al genio di Roma sono tutti riferimenti a questa dottrina segreta quindi come abbiamo visto fino adesso Roma è basata fondamentalmente sulla magia ma quando intendo quando parlo di magia intendo parlare della parola traduzione amata ma che cioè conoscenza e sapienza tutto era correlato ad esempio pochi sanno che nel foro guario perché i romani si attenevano strettamente ai libri scrittivi quando c'è stato un momento in cui si pensava a un'entrata in guerra furono seppettiti lì il foro guario due coppie uomo-donna due romani e due etrusche queste cose erano riportate comunque nelle croniche del tempo e c'era tutto un discorso magico un tessuto magico dietro la fondazione di Roma nulla era lasciato al caso e c'è un altro rito interessante e ne parlo in questo uno che si chiama Sublicio Magico il mistero dei facitori di conti l'arcana cerimonia dell'interno come fine in effetti anche qui c'è una storia molto particolare in parte si rifà simbolicamente a partito di cui ha parlato l'amico che c'era prima di me Arbito degli Arcee e questi 27 fantocci che venivano gettati nel Tevere e che rappresentavano praticamente si dice così dice la leggenda l'arrivo di Enea che per ringraziarsi gli dei per essere riusciti ad arrivare a Roma aveva sacrificato gli esseri umani così si dice come ho detto è la leggenda che lo dice non sappiamo se per però questo rito che gli stessi romani non conoscevano l'hanno trovato già a gente nella Roma Arcaica veniva comunque espletato ogni anno c'era questa processione c'erano i ministali i sacerdoti di Iside c'erano le restali e venivano gettati questi fantocci c'era un rito simile tra i truiti che si trovavano al parco della Caffarella a Roma che praticamente usavano un gigantesco uomo divini qualcuno dice ma io non ho mai creduto che all'interno ci fossero dei sacrificanti non credo anche perché il grande Giulio Cesare avendo visto che la religione dupilica sta prendendo piede ha nel suo del bello carico anche introdotto degli aspetti che allontanassero da questa da questo aspetto così attrattivo comunque si rifare che non viaggia appunto a questo rito truitico che si ma interessate che i truiti erano anche qui a Roma al parco della Caffarella dove dove la fonte geria e quindi bruciavano questo fantoccio divini era un sacrificio quindi non si è messo avuto fino in fondo a che cosa si riferisse questo rito di Cargeli che poi si rifà gli argonaldi poi c'è tutta una storia dietro di simbolismi sul nome comunque è legato in qualche modo al ponte sul bricio in cui praticamente una casta sacerdotale è caricata si ai pontefici dove c'era anche il pontefice massimo ma era legato a uno stretto gruppo di iniziali che mantenivano vivo il passaggio e di qui la correlazione con Giano che è il signore apritore delle porte del passaggio il passaggio che portava e conduceva i luoghi segretari e questo è molto interessante comunque il forte su bricio viene costruito nella Roma arcaica e praticamente serviva per serviva fisicamente per congiungere le due spose del teore questo ponte è stato edificato senza utilizzare gli omni infatti su bricio pare che interizza su briga queste tavole di legno su briga queste tavole di legno annotate da funi ma non era un semplice passaggio perché dietro c'era un libro particolare tant'è che il ponte era allineato con delle particolari costellazioni celesti con delle particolari costellazioni stellari con dei pianeti tra cui Urione e Sirio come ritroviamo in Egitto Urione è legato a Siride e Sirio è legato a Inside perché questa questa particolarità astronomica a che cosa serviva serviva per questo rito in cui c'è chi dice servisse per un rito di immortalità il simbolo di questa ritualità era la spiega di grano la spiega di grano saga anche a Cere è legata anche a Osiride è legata all'immortalità quindi non si sa bene qui si entra nel mistero più fito non si sa bene se la persona venisse sacrificata realmente per poi sorgere c'era un triangolo fuori a questo ponte dove i sacerdoni attendevano o la persona fisica quindi un rito di trasmutazione come la morte iniziatica e l'ingredo alchimica e quindi una rinascita simbolica o secondo alcuni la parte immortale dell'essere rinasceva in un altro essere umano o come senza entrare troppo nei particolari la magia la taglia di cui parla Cremens cioè la possibilità che l'anima dell'individuo l'essenza il seme possa penetrare in un altro essere umano e perderne lo stesso due degli aspetti importanti legati alla costruzione di questo ponte due punti astronomici erano l'alfredaria l'alfredaria è il potenziale legato al destino dell'essere umano e le determini al destino dell'anarega che invece è quel punto particolare che ne determina la morte quindi c'erano questi due punti prima sempre la figlia che ha provato di me parlava di parentaria o delle murales o praticamente rituale delle muralia delle muria praticamente nel momento in cui il confine tra la vita e la morte veniva meno quindi le due dimensioni erano praticamente congiute un po' come succede con sciamain quella che è stata organizzata in Halloween cioè il mondo dei vidi e il mondo dei morti viene praticamente collegato il piede sidero viene sotto i lato e c'è un collegamento così con di muraria e parentaria o parentes dove praticamente l'invasione come accadeva per sciamain degli spiriti degli antenati veniva in qualche modo scongiurata attraverso liti scongiuri e forni e proprio in quel periodo che stuponte proprio nel momento in cui il velo tra le due dimensioni la dimensione di vita e di morte venivano in congiunzione proprio in quel momento che veniva espletato il rito dell'eterno ritorno e avveniva questo passaggio avveniva questo passaggio in un'altra dimensione erano rimasti praticamente delle antiche dei resti di questo punto che poi purtroppo sono stati distrutti oggi al suo posto si erge un'unica di pietra che non è più quello originario ma rimane comunque in quella zona un'energia particolare un'energia matica che si percepisce un altro aspetto interessante sempre della Roma arcaica a parte l'Apis Niger che ritroviamo nel cuore romano dove sotterraneamente c'era un corridoio dove si tenevano delle iniziazioni qui avveniva la morte misterica e ritornava luce concretava e sostanziava praticamente ritorno alla vita c'è iniziato un dato da tutte le scorie della personale e la profana moriva e rinasceva c'è un altro posto interessante arcano che si trova a Valentino tra Santa Salvina e Santa Prisca che esagano più o meno al V secolo c'è un tombino c'è un tombino vicino a queste due chiese in una stradina molto stretta lì intorno mi pare tra gli anni venti e anni trenta fu ritrovato un templo intatto dedicato al giove Dolicheno 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 era una Dolichenos o Dolicheno Dolichenos mi pare è vero? Dolichenos sì Dolicheno era una divinità importata dall'Oriente con il testo di cultuisiaco come quello che trai legato a una mazza l'ho stato importato e aveva un'ascia bipenne che poi ricordava molto lo splendido fascio vittorio era quest'ascia bipenne è stato ritrovato questo luogo intatto riaperto ancora trasudava la forza energetica di quel tempo c'erano dentro le statue delfante romano giove giunone e questo giove dolicheno ebbene il Vaticano ha pensato di impiombare questo tombino di chiuderlo e di praticamente sigillare questo tempo perché era di tenuto offensivo per la religione cattolica alcune delle statue sono state portate nel tardurale come quindi a musee e vittorini edo le sono and dago e Grazie a tutti.